L'alleanza globale contro la fame e la povertà proposta dal padrone di casa, il presidente brasiliano Ignacio Lula, trova d'accordo i 20 grandi della terra riuniti a Rio de Janeiro, almeno a parole, perché poi, nei fatti, è tutta un'altra storia. Nei trattati e negli accordi commerciali che dovranno regolare gli scambi tra i 20 paesi che rappresentano l'85% del PIL mondiale, sono destinati a pesare, infatti, i dazi che il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha già annunciato di voler imporre sulle merci importate in America. Questo potrebbe spingere molte nazioni a ripiegare sul sovranismo alimentare che penalizzerebbe i paesi più poveri. I numeri fanno paura, 700 milioni di persone nel mondo vivono in condizioni di povertà estrema e la metà sono bambini che non hanno accesso a cibo ed acqua potabile. Un'emergenza di fronte alla quale, ancora una volta, Papa Francesco cerca di spronare i cosiddetti grandi della terra. In un messaggio portato a Rio dal segretario di Stato Parolin, il Papa chiede una visione ed una strategia a lungo termine per combattere in modo efficace la malnutrizione e chiede di usare i soldi per le spese militari per un fondo destinato a combattere la fame nel mondo. In queste ore gli Sherpa stanno lavorando sulla dichiarazione finale, cercando di sciogliere i nodi della guerra in Ucraina e Medio Oriente. Si lavora sulle parole per trovare quell'equilibrio che non scontenti nessuno. Sul fronte ambientale, invece, nel documento finale si sottolinea testualmente la necessità di catalizzare ed incrementare gli investimenti da tutte le fonti e canali per colmare il divario di finanziamento delle transizioni energetiche a livello globale, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Una formula generica che è un nulla di fatto e che è stata accolta con grande delusione a Baku, in Azerbaijan, dove è in corso la COP29 sul clima che aspettava un segnale forte e concreto dai paesi del G20.